salve ragazzi bentornati al mio canale oggi cosa cosa parliamo dal titolo lo sapete parliamo di questo vlog che vi devo un pochetto dire diciamo che è stato un bello rischio stato innanzitutto oggi sono andato a alimentare i crocinese che sono già stato e tempo fa l'ho portato un vlog nel quale dicevo vari prodotti così davo un po di spiegazione dove si trova questo negozio e da più di vent'anni che frequento quel negozio niente questa volta sono andato diciamo lì facendo il vlog perché qualche prodotto nuovo ho visto tipo olio di sesamo queste cose qua allora sono andato là con l'intenzione di fare vlog sempre con gli occhiali sulla testa con occhiali e il videocamera nascosto dentro gli occhiali mentre sto finendo vlog sono arrivato a casa alla casa c'è quella di cassiera mi ha riconosciuto lei usando dialetto suo io lo conosco un po il suo dialetto che siamo vicini diceva e questo ragazzo che si firma per in cinese non c'è non c'è il verbo cioè non c'è il tempo per verbo a fine io ho detto oddio mi ha beccato che adesso sto film che sto ancora filmando adesso con occhiali mi ha beccato chissà che mi fa al fine ho detto si farà la classica scena delle iene che mi ha eliminato da gente no non dovrebbe essere così non gli ho fatto niente nel senso il mio intenzione del video è mai attaccare le persone non mai fai farli trovare in difficoltà le persone perché se non mi denunciano oppure qualcosa anche per per una ragione di educazione non si può mettere in difficoltà le persone diciamo detto che sarà e poi diciamo abbiamo visto il tuo video è stato un po iscritto al pallaccio per fortuna questa volta andava bene però se io faccio un video con una videocamera nascosto non mi andate a dire che sto stato io a proprietario che c'è questo qualcuno ti sponso non sono ancora pronto a diciamo uscire uscire che dice innanzitutto mi vergognava andare a chiedere qualcuno posso farti un video sponso con con la cellulare ma che stanno adesso che c'è un telecamera possiamo di ti posso sponsorizzare tutti sarebbe perfetto perché c'è un po di qualità diciamo con videocamera diciamo il passaggio è che finché non c'è un videocamera senti ancora nel passaggio giocherone una volta che c'è c'è un videocamera dovrei sentire un pochetto più responsabile diciamo che anche di fiducia ma quindi oggi è andato bene perché non mi ha criticato dice mi ha ringraziato pure perché sto a fare un po pubblicità tutto quanto e poi mi ha chiesto un po di cose su come va l'istorante tutto quanto vabbè niente ragazzi questo vlog mi ha fatto sudare sudare letteralmente cioè quando dice questo ragazzo film c'è tutto qua parte da colore qua dietro tutto sudore paura vabbè ragazzi guardatevi sto vlog un po' di petidivo perché sono sempre più o meno stessi prodotti ma oggi sono andato a comprare le mandorle e potete vedere un po' la situazione ci vediamo al prossimo ecco questo è un audio affatto a parte qua siamo entrando in questo alimentare che mi piace tanto si chiamava pacifico questo lavoratore che stava scaricando qua a sinistra troviamo le alche quelli che facciamo per zuppa quantum oppure per fare altro upload le alche questo rotondo qua date e poi qua sotto ci abbiamo con i funghi i funghi quelli che si fanno zuppa polo funghi cioè tagli o ai tacchi come si chiama e poi ci abbiamo questo reparto questo qua ci stanno i docetti tutti i docci cinesi quelli docce di coniglietto e altri tipi inizio qua sotto cioè ecco qua doccia di coniglietto questi sono di pieno di di un tuolo di uovo tipo qua sono io con occhiali che stavo guardando l'altro che ed coniglietto questo quadrati dentro vetrina c'è coniglietto con il piano faccio di rossi quelli che cercavo che sono molto buoni questo per perché mi avevo fatto notare un cliente che gli piaceva tanto quindi l'ho comprato in questa parte ci abbiamo reparto bevanda e minestre le cose in staccato cioè questi qua sono l'icis qua ci stanno vari costi e poi qua sotto troviamo gelatine cinese quindi sono molto amati si chiamano eh cuotong si chiama sarebbe frutta con gelato invece questo qua è molto bello sono dieci prodotti per rinforzare il corpo quando senti stanchezza ti fai questo teier con queste dieci cose sono buonissimi e poi ci stanno altri reparti vediamo qua qua c'hiamo tutte le cose in scatola amme che sono le specie di mamme latte che sono molto buone invece in questa parte a sinistra ce l'abbiamo aspetta qua a sinistra ecco ci stanno le cose secche frutta secca qua c'è tè invece in questa parte ci abbiamo tutti i dolcetti cinesi biscotti queste cose qua cavoratele però alle donne piacciono e invece questi sono ecco quello in scatola nero era se mi diceva solo che si mangiava così invece questi qua sono gli spaghetti la salsa per spaghetti piccante quello là su e invece questo qua a sinistra c'abbiamo gli wasabi varie sasse qua c'è salsa di soia troppo ve lo dico qua c'è altre sasse salsa soia salsa piccante ci stanno pure salsa oisse si chiama in realtà l'avrebbero chiamato salsa di frutti marini c'è questo qua bottiglia rosso c'è tappo rosso che l'ho preso e l'olio di sesamo molto perfumato prossima ricetta la faccio con questo c'è questi qua sotto sempre salsa piccante e varie cose qua c'abbiamo aceto cinese quello che ho toccato aceto cinese di riso molto profumato qua c'abbiamo salsa di soia guardate la stessa salsa di soia la stessa marca in amazon costano 7 qualcosa qua costa 1 euro 80 mi pare o 2 euro 80 o 1 euro 80 mi pare guardate 1 euro 80 sotto invece in alto repatto andiamo a vedere ci sta salsa soia chiara scura tutti i vari tipi ci sta chi commenta ci sta tappo oppure verde se notate con poca sale qua costa davvero davvero poco ragazzi perché supermercato non è come amazon qua sotto ci sta bidone di salsa di soia quello a sinistra più giù sinistra bidone quello grande da 5 litri mi pare c'ha varie cose e poi a destra quello in pratica colore un po' bianco riccio anche questo sono vino cinese questo vino cinese è bottia piccola quello più destra è boccione da 10 litri costano davvero poco questo qua questo bottiglia con adesivo rosso invece c'è la salsa rosso dentro c'è una spea orio rosso per per dar colorito alla carne così quando lo mettete sulla carne sembra che sta a colore invece queste bustine la prima bustina questo qua in mezzo in mezzo significa quello dei 5 profumi quello più sinistra era di pepe c'è qua sotto ci abbiamo ecco questo c'è pepe si c'ha costato parecchio 25 euro un chilo tocca macinarlo ancora pepe si c'ha questo qua è molto profumato ho dovuto chiedere perché non lo trovavo stava sotto ok l'ho preso vediamo l'altro inquadratura sono le 3 di sera ragazzi ci sono questi sono occhio di racco secchi sono molto buoni ci stanno dattari cinesi pure questa destra dattari e poi ci stanno anche lì ci sono secchi ci stanno poi soia sotto soia non fresca ma semi semi di soia si può fare ciumi di soia oppure cucinare mangiare questi sono cosa vari prodotti tipo bambù ci sono noi siamo non c'è non è un'altra ma è è che non non è tutti anche non non ti non 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 c'è un po' di più. Ecco, adesso ci sono uscito, diciamo più o meno il discorso mi ha fatto Mi ha fatto paura, perché la casa dice, ah è questo ragazzo che ti ha filmato, ho detto, oddio, mi hanno beccato Perché stavo ancora filmando, perché pensavo che mi stessi dicendo che sto filmando, ho detto, oddio, oggi che faccio? Poi si è scoperto che un iscritto è andato da l'area, dicendo, ah ti hanno fatto video qua e là Dice che l'iscritto parla bene, diciamo, dei locali e tutto quanto E poi ha detto, ah, all'inizio io ero in difesa, ah vabbè ti ho fatto un po' di pubblicità tutto quanto Quello dice, ah grazie, grazie tutto quanto E poi dice che mi ha chiesto un po' come va l'istorante E io, vabbè, dice, ah c'hai così tanti iscritti, dovrebbe essere tanto Che tante persone vanno a mangiare l'aiuto Vabbè quelli iscritti sono di tutto il mondo, è tutta Italia, non è solo Roma Se fosse solo Roma, a voi avrei tanti creanti E poi ho detto, vabbè, ogni tanto vengono i clienti a mangiare Cioè io, i fans, gli iscritti vengono a mangiare e tutto quanto Mi ha ringraziato, io sono stato contento Lì per lì ho detto, vabbè, ora ci provo, faccio il video a camera Gli dico, prossima volta posso venire a fare video Con inquadratura, non così a cazzo di cane Fa bene, vabbè, prossima volta ci ritento Perché adesso sto a filmare sempre con occhiali E non sa di essere filmato tuttora, dai Se ho detto che sto a filmare con occhiali, prossima volta lo saprà, vabbè Ma io lo metto Inizio, questa è la strada che si percorre per andare sul mercato di Piazza Vittorio Ho lasciato questo, non l'ho tagliato Perché così vi potevo parlare un pochetto Praticamente attraverso il semaforo Sì, vado qua Questo qua per entrare, sono andato direttamente da macerare cinese E ho preso un po' di cose Guardate qua Ci sta tutto L'orario di questo chiudono Tipo verso l'uno e mezza già chiudono Però sabato sono aperti pure pomeriggio Oggi sono andato, quindi sabato sono andato E ho preso l'intestino di maiale L'intestino che era piccolo e grande E poi ci stanno pure Ho preso solo due cose E poi ci stanno tipo tutte cose Il cuore, fegato, orecchio, lingua Spuntature Budelli, budelli, tutto Stomaco Da qua si potrebbe comprare tutto Io ho preso solo due cose Perché l'intestino da un po' che non lo prendevo L'intestino comunque deve essere preso E poi pulito per bene Questo cuore L'altro dovrebbe essere Come si chiama? Come si chiama? Fegalo Ci sono tutte cose abbastanza normali E poi sono andato a prendere la cosa più importante che dovevo prendere Questa sta a mettere l'intestino Sono andato a prendere le mandorle Perché ho fatto Perché sono la mia vittoria Perché mi sono finite le mandorle Lo sto andato a prendere Gli ha dato una cifonata Quasi mi sto prendendo Diciamo che i costi di mandorle variano Quanto la quantità e la stagione Io prendo sempre Le mando più o meno 8 euro 8,20 Oggi mi hanno messo 8,20 Perché costa di più Gli Anakadi costano 10 euro a chilo Mi hanno messo Perché lì c'è scritto 11,12 Dice La polvere piccante costa 7 euro Anche curry Anche curcuma costano 7 euro Va bene ragazzi Il video finisce qua Ci vediamo al prossimo Se vi piace fatemi sapere Se siete arrivati fino a punto questo Dite cheese Ok Ciao